Oggi vi voglio mostrare come si spostano delle macchine virtuali a caldo tra due o più host Hyper-V e come si configura una replica. Per chi non sapesse cos'è Hyper-V ho fatto un video dedicato, vi lascio il link qui sopra. È consigliabile comunque utilizzare due server con la stessa marca di CPU, avere un quantitativo di memoria RAM sufficiente ad avviare le macchine virtuali che vorremmo replicare e avere spazio di archiviazione a sufficienza. Non importa che il RAID sia lo stesso, i dischi siano uguali o che la scheda madre o l'hardware del server sia uguale. Questo va a nostro vantaggio. Perché dico questo? Perché immaginiamo di trovarci nella situazione di cambiare un vecchio server a un cliente potremmo riutilizzare il vecchio server semplicemente acquistando una licenza di Windows Server aggiuntiva appunto per il vecchio server per poterlo utilizzare come replica. Replica in caso ovviamente di disaster recovery. La replica permette per l'appunto di creare una copia esatta della macchina virtuale e andarla a sincronizzare con un tempo che noi andiamo a decidere. Ora vi mostro come. Allora qui ho preparato due macchine virtuali, facciamo finta che siano due host fisici quindi host1 e host2 come vedete e praticamente andremo a configurare questa replica. La prima cosa da fare è mettere entrambi gli host a dominio, ok? Un requisito fondamentale è che i due host siano a dominio. Ovviamente entrambi gli host devono aver installato il ruolo da Hyper-V visto che già ci ho fatto un video dedicato che vi ho linkato prima non vi sto a far vedere come si fa. Quindi qui ho già i due server messi a dominio e già installato Hyper-V in entrambi gli dispositivi. Andiamo a creare quindi in una macchina su questo host che io ho chiamato host1 per farvi capire meglio andiamo a creare una macchina virtuale ipotetica. La andiamo a chiamare VM1 andiamo ad assegnargli un minimo proprio di memoria giusto per accenderla anche senza sistema operativo, senza rete non ci importa giusto per farvi vedere e la andiamo a accendere. Perfetto in questo momento la nostra macchina virtuale VM1 sta effettivamente funzionando sul nostro host1 come vedete l'host2 se io vado ad aprire la console la troveremo vuota ok ma ritorniamo nel nostro host1 allora la prima cosa da fare per andare a configurare la replica è andare nelle impostazioni di Hyper-V qui sulla destra e andare in configurazione replica noi andremo in questo modo ad abilitare questo computer come server di replica utilizziamo Kerberos sulla porta 80 senza crittografia se volete utilizzare la crittografia dovete andare a creare i certificati di associarli a entrambi i server è un lavoro abbastanza inutile a meno che non abbiate dei casi particolari di sicurezza andiamo a consentire la replica o da qualsiasi server autenticato o da dei server specificati dovete andare a specificarli qua e andiamo a specificare un percorso in cui finiranno i dischi di replica ok la stessa identica cosa dobbiamo farla sull'host2 a questo punto siamo pronti per andare a configurare la nostra replica clicchiamo quindi col destro sulla nostra virtual machine da replicare andiamo a selezionare abilitazione replica e wizard ci guiderà sulla configurazione andiamo avanti ci chiederà il server di replica in questo caso host2 andiamo avanti lui va a verificare tutte le configurazioni come vedete ha già ripreso la configurazione che avevamo fatto nell'altro server andiamo avanti ci chiede quali dischi virtuali andare a replicare qui ne abbiamo solo uno andiamo avanti e ci chiede a questo punto la frequenza con cui inviare le modifiche al server di replica che significa se andiamo a specificare 30 secondi 5 minuti o 15 minuti lui ogni ad esempio in questo caso 15 minuti andrà a replicare a sincronizzare il disco dell'host1 della virtual machine uno sull'host1 ogni 15 minuti con l'host2 quindi caso in cui l'host1 muoia ci sia bisogno di effettuare un disaster recovery quindi andare a accendere la macchina virtuale replicata sull'host2 avremo la macchina che al massimo può essere stata sincronizzata 15 minuti prima magari è stata sincronizzata un minuto prima dipende quando è stata avviata quindi l'ultima volta la sincronizzazione comunque no, non mai superiore ai 15 minuti possiamo benissimo mettere 30 secondi se un server che è fondamentale abbia i dati aggiornati sempre andiamo avanti ci chiede se vogliamo mantenere solo il punto ripristino più recente o utilizzare ripristini aggiuntivi andiamo avanti e ci chiede se vogliamo trasferire la copia iniziale tramite rete nel caso in cui la macchina sia molto piccola potete tranquillamente trasferirla tramite rete altrimenti potete trasferire una copia iniziale tramite un supporto esterno un disco USB, quello che volete e andarla a copiare quindi nel server di replica a mano in modo che la sincronizzazione sia molto più piccola, molto più breve potete andare addirittura a pianificare l'avvio della replica anche magari durante la notte così almeno non avete carichi di lavoro inutili mentre magari il server viene utilizzato dall'utente andiamo avanti lanciamo tutto immediatamente così vi faccio vedere come funziona clicchiamo fine lui cosa farà? a questo punto mi andrà se noi andiamo su Lost 2 vediamo che ci ha già creato la macchina virtuale chiamata VM1 che in realtà è una replica infatti se noi andiamo qui possiamo andare ad aggiungere la colonna stato di replica e a questo punto lui ci farà vedere anche lo stato della replica di Hyper-V se clicchiamo col destro a questo punto non abbiamo più il menu abilitazione replica ma replica qui possiamo andare a visualizzare lo stato ci dice quando è stata sincronizzata l'ultima volta quanti dati all'incirca passano quindi la dimensione media dei dati da sincronizzare qual è il server primario come vedete è a host 1 qual è il server di replica corrente è a host 2 ok? nell'host 2 possiamo a sua volta andare a estendere la replica a un altro host ancora vabbè non credo che vi servirà mai però nei casi più strani magari può essere utile ma quindi come funziona? una volta fatto questo lui ogni 15 minuti andrà a scrivere a risincronizzare quindi i dischi della VM1 sull'host 2 in modo che la VM1 sull'host 2 questa qua spenta sia sempre pronta da accendere aggiornata a questo punto possiamo tranquillamente effettuare o un failover pianificato perché magari dobbiamo fare manutenzione a server 1 quindi non so magari dobbiamo pulirlo cambiare un disco vabbè il disco magari lo possiamo fare a caldo però ampliare la RAM eccetera eccetera non vogliamo fermare il lavoro a nessuno andiamo a creare un failover che significa lui spegnerà la macchina virtuale dal host 1 e la andrà a accendere sull'host 2 per fare questa cosa la macchina deve essere spenta ecco perché poi parleremo anche di live migration deve essere spenta quindi la andiamo prima a spegnere la spegniamo brutalmente tanto è vuota andiamo a cliccare quindi replica failover pianificato cosa fa lui? mi dice ok avvio la macchina virtuale di replica dopo il failover quindi vado a accendere la macchina VM1 sull'host 2 dopo che l'ho sincronizzata quindi lui cosa fa? se io clicco adesso failover che fa? mi sincronizza subito le modifiche della macchina VM1 dall'host 1 all'host 2 ok? in modo che la macchina è aggiornatissima e poi mi accende la macchina di replica in modo che io posso tranquillamente spegnere l'host 1 fare la mia manutenzione o cambiarlo o quello che volete ok? volendo invece se io volessi mettere in produzione la VM1 direttamente sul server di replica potrei cliccare inverti la direzione di replica e lui che fa? mi va a configurare l'host 2 come reale proprietario della VM1 e l'host 1 come server di replica quindi si inverte la replica la replica adesso viene fatta dall'host 1 all'host 2 se io seleziono inverti replica la replica sarà dall'host 2 all'host 1 proviamo il failover è completato quindi praticamente la macchina è stata spenta dalla VM dall'host 1 e è stata accesa nell'host 2 vedete? ok e questo è quello che riguarda la replica quindi vi ho fatto vedere più o meno come funziona e secondo me è molto molto utile primo perché come vi dicevo vi permette un attimo di gestire il carico di lavoro tra più server perché se avete due host con magari hardware molto simile potete andare a senza creare un cluster potete andare a avere una ridondanza completa tra i due server e bilanciare il carico tra di essi oltre a questo come vi accennavo nella intro vi volevo far vedere la live migration come funziona Hyper-V vi dà la possibilità di spostare a caldo due macchine virtuali tra due host Hyper-V andiamo quindi nelle impostazioni di Hyper-V andiamo in migrazioni live migration e lo andiamo ad abilitare diciamo di poter utilizzare una rete qualsiasi altrimenti potete andare a specificare una rete dedicata ad hoc che avete magari creato proprio per le migrazioni live e andiamo nelle impostazioni avanzate a dirgli di utilizzare anche qui il protocollo Kerberos come prima andiamo ad applicare e andiamo a fare la stessa cosa sul nostro host 1 migrazioni live migration abilita qualsiasi rete e usa Kerberos ok a questo punto se noi andiamo nel nostro host 2 prendiamo la solita VM1 andiamo a cliccare col destro e facciamo sposta andiamo avanti lui ci chiederà vuoi spostare l'intera macchina virtuale o solo lo spazio di archiviazione no l'intera macchina virtuale andiamo avanti ci chiede dove vuoi spostarla dall'host 2 all'host 1 andiamo avanti e lui mi dirà va bene vuoi spostare tutti i dati della macchina in un unico percorso oppure sposta i dati della macchina virtuale selezionando i percorsi in cui spostare gli elementi oppure spostare tutta la macchina virtuale andiamo a spostare tutto ci chiede la cartella del server di destinazione quindi se andiamo a fare sfoglia attenti perché noi stiamo vedete sull'host 1 quindi siamo sul disco locale c dell'host 1 vi vado a dire che qui dentro magari andiamo a creare una cartella ad hoc anzi lo mettiamo dentro vm lo mettiamo qui non posso creare una cartella lo facciamo dall'host 1 la chiamiamo live migration ok e andiamo a selezionare quindi la nostra cartella di destinazione andiamo avanti e lui quando io cliccherò su fine attenzione la macchina non andrà down sarà spostata in tempo reale senza interruzione di servizio quindi voi potrete migrare virtual machine in esecuzione mentre gli utenti ci stanno lavorando se io clicco su fine voi vedrete che la macchina virtuale io vado di qua ecco vedete è stata migrata e non è stata minimamente spenta ci ha messo un po' velocizzato perché comunque sia impiega un po' di tempo però vedete non crea down di servizio la stessa cosa potete andare a fare tra più host ok quindi più nodi di Hyper-V e questo quindi è quello che volevo mostrarvi su Hyper-V sulla migrazione live migration e sulle repliche spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto metti un mi piace mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere nei video così mi aiutate a scegliere gli argomenti grazie alla prossima grazie